e benvenuti ragazzi qui siamo trovati con un nuovo video di plant vs zomiro purtroppo non sono solo perché qui con me c'è un ospite che non possiamo dire il nome quindi saluterai basta oh mi raccomando iscrivetevi è un saluto alla parte quanta felicità eh però non ho avuto sta carta qui raro ma non si è andata molto è vero ride sto qua ride per ogni cosa si è buggato tutto bene è crashato per me bello ragazzi raccogliamo tutto zitto vado fare cos'è gesti brutti eh sparca 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 la città più famosa di cava sparca sparca sapete perchè devo stare con questo essere ma abbassi un po' il volume che ho paura che si sente più quello di clash royale che di questo va bene si va bene che le tue frecce fanno cagare come la merda appoggiare come la merda spesso guarda guarda se vabbè riflett vabbè il un 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 ai il l'episodio a vedere l'episodio indietro aspetta forse aveva fatto zero visualizzazione di quelle del quale altro video sai adesso non ci fai pensare forse era Call of Duty aveva fatto zero visualizzazione vabbè comunque sia installatevi in questo gioco e soprattutto installatevi Clash Royale perchè è una figata se ce l'avete ma io sono scemo chi non ce l'ha? chi li può guardare una un 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 Ehi, non posso fare un caso, però c'ho tipo questa qua, questa qua, questa qua, questa qua, la bianca più ne sopra. Porca! Tette li più oto per 4? Ehi, non ho ancora più pe idee. e io lo gesterei tipo oh be' sto qua mi ha mandato lì la di Gesù e non mi ha buttato i cavalieri i due arcieri, un bombarolo un pecca come aveva mandato? vanno i pecca vanno i pecca vanno i pecca vanno i peccas vanno i peccas vanno i peccas un peccas vanno i peccas ch'e non vanno i peccas vanno i prize con questo vanno i peccas dd vanno i peccas vanno i peccas e bravo 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 不对 groups 좋 本镇 Sì, però Ho fatto stock e per voi morirà Perché non lo vuole E allora lo porto qui Ho già tutte le pietre sul terreno Questa perché c'è la cosa E poi perché c'è la cosa Ma ci sono i nostri ritori? E poi da dove è appartone? Ci sono un po' No, no, leggermente troppo Leggermente La zucca è un figlio La zucca è un figlio E poi da dove è appartone? E' daiee E adesso che non mi consigli? Non lo so Mi faccio spiegare con Le pietre Vorrei anche adesso Io direi che siamo al posto degli aceri. No, no, di aceri, scusa. Io c'è un livello più alto. Ok, voglio provare per me a buttare. Ora, raga, scrivete nei commenti se volete che io porti i Clash Royale. Io c'è dall'arena 7, 8, proprio per questo. Ma no, ma devi cominciare, se no dove sta il bello? Cazzo che riduccio, nessuno ha ritrovato. Io ci ho fatto un'altra vita, per chi non lo sapesse, io ero arrivata in 2006. E dopo sono scendendo... Il paese impossibile. E dopo sono rinunciato, sono scesito. Ma ho spinto una cosa, anche se questo video dura meno la di questa, la Playstation. Però ho fatto sto che... Adatto, vale, quindi direi che per così tutto vi consiglio di iscrivervi al mio canale. Se un bel like, se questo video vi è piaciuto, cominciate a iscrivervi al mio canale. Questo non ce l'ho già detto. Vabbè, guidao a Max e alla ragazzi. Ciao.